Per gli abitanti della striscia di Gaza, l'embo di terra al confine con Israele ed Egitto, la vita non è semplice. Il primo elemento di cui si lamenta la mancanza è la libertà. È vero che le autorità israeliane avevano dato 18.000, alcuni dicono 20.000 permessi di lavoro, però per 2.300.000 persone, la più parte della popolazione mai sono usciti dalle strisce e mai potevano uscire. In un contesto in cui manca l'acqua potabile e si può beneficiare di sole 4 ore di elettricità al giorno, un'altra costante è la guerra. Tante che nemmeno si contano alcune dei due o tre giorni, o per esempio i bombardamenti di notte che sono stati quasi come le tempeste di notte in altra parte del mondo. I cristiani presenti in questa terra erano 1017. 17 sono morti sotto gli ultimi bombardamenti. Di questi solo 135 sono cattolici. La convivenza con i musulmani è tuttavia buona. Sono i missionari cattolici a tenere attive tre scuole, tre opere di carità, dieci cliniche mobili. Fondamentale la loro opera nella pandemia. La Chiesa Cattolica ha curato durante la pandemia, durante il Covid, il 65-66% dei casi, parliamo più di 40.000 persone. Nel raccontare questa guerra non c'è pregiudizio, solo una semplice constatazione. Un peccato lo faccia che lo faccia è un peccato, un crimine lo faccia che lo faccia è un crimine. Il conflitto sta minando il futuro di questa terra. Questa guerra è una delle cose che sta portando via oltre a migliaia e migliaia di morti, parliamo più di 11.000 morti, e poi i bambini morti. È proprio dall'immagine dei bambini che può germogliare un seme di pace. Un bambino, quando il Signore ha voluto seminare le speranze in noi e la bontà, è apparso come bambino, si è incarnato. E quindi noi abbiamo fiducia e fede in questo bambino di Betlemme, che lui metta un po' veramente di senso comune, di amore, di pace, di riconciliazione nel cuore di tutti quelli che guidano la società in questa parte e che questa guerra finisca. Grazie. Grazie. Grazie.